libri la lettura mi ha salvato la vita sì è vero è ancora oggi quali sono state le letture determinanti per la sua vita beh come si fa sono troppe non lo so li dico a caso diciamo montaigne ma diciamo anche thomas bernard diciamo spinosa ma diciamo anche gertrude stein capisce diciamo la bibbia o parte della bibbia e però anche ivy compton barnett per esempio quindi siccome sono stata una rettrice e sono ancora una rettrice disordinata e sempre in cerca degli estremi ecco perché mi vengono questi nuovi